Vediamo le abituaglie di questa tribù Da quella parte c'è una patrice che sta facendo l'appello Una ragazza c'è una patatella Vieni, bubbiappe E' una di bubbi Senta via, non è l'ora di me E' una di bubbi Non mi sono dire Delle scavette dal fondo Delle scavette dal fondo In questo momento ci stiamo avvicinando per capire un'articadenza a tre bari religioso di questa tribù Attenzione, se ve lo dai in pratica Attenzione, non lo faccio Allora Ecco Che cosa La danza tra i gocci La danza con giusto a questo C'è uscito a questa gioia La squadra dov'è nostra? Il gioco con giusto a questo Ok La mangiare con la nostra Viene scioccare Quando abbiamo fatto la tavola di nome Facendo la mangiare in mezzo a questo La mamma non voglia La mamma non voglia La mamma non voglia Stiamo provando Buongiorno